Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua in questa nuova gara, questa gara è stata creata da Daniele Pereito, vi lascio il suo canale in descrizione E guardate che spettacolo, partiamo con lo Zabba, però guardate che partenza, dove siamo? Non mi chiedete niente, andiamo? Wow, spettacolare, si inizia subito con una bella discesa dal Monte Ciliad, guardalo Forte Cielo, dove vai sui? Ok, 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 aspettate, oh Daniele, grazie, mi ha rimesso bene, passiamo in mezzo agli alberi? No regà, volevo passare qua in mezzo, comunque se notate si sente un leggero suono tipo di campanellino Ed è questo claxone natalizio che fa questo effetto campanellino quando prendiamo tipo un dossetto, e io l'ho capito dopo tantissimo Tipo dopo un level asian che ho fatto con l'XA21 perché c'è questo claxone pure nell'XA21 Carino però, veramente un bel claxone, andiamo giù No, volevo scendere dall'aria, era una rampetta perfetta quella per scendere Che peccato, aspettate, ci rimettiamo bene? Ok, andiamo belli veloci, eccolo qua Danielino Allora, vediamo che parkour ha creato Daniele Perito Con questo fantastico Zabba, puoi il mio regà, c'ha le ruote F1, meraviglioso Uh, il check, il check, il check, regà Non ci dobbiamo dimenticare del checkpoint Ok, qua ci abbiamo fatto il nascondino, vi ricordate? Con la Sultan Classic, sì sì Saliamo qua, bella questa scalinata Ok, facciamo attenzione, chi è il primero? Oh, l'ho re! Ma quanto corri, vorrei sapere Ok, ok, facciamo attenzione Reggiriamoci Oh, 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 sui Oh mio Dio, meno male che ha messo il cartellino del nightclub Cartello, accessorio Ok, andiamo Facciamo attenzione, c'ho leggermente un po' d'ansia Ma nemmeno tanto, però Questo Zabba ancora è nuovo E dobbiamo capire come si guida Ok, veloci? Ci dà fastidio la lampadina? No? L'ho re, secondo me sta a correre leggermente troppo, sai? Però tanto si trolla No, poveretto Non si deve trollare Ok, ok, facciamo attenzione, regga Sto registrando anche a mezzanotte perché L'ho fatto tardi, è nemmeno uscito il video ieri Allora Facciamo attenzione Ok, guardalo tutto alla primera Sto suino Oh, l'erga, ci siamo Facciamo attenzione pure qui Oh mio Dio Ok, e qui cosa abbiamo? Questa parte No, no, no Ok, ok, ok Andiamo Siamo vivi Wow, spettacolare questa parte Andiamo Ah, raga, se non mi sbaglio può fare solo i 360 Quindi facciamo un bel 360, va? Allora, dove sei? Vieni qua Andiamo, andiamo Come prima Che è successo a Lorenzo? Scusate È crashato? Ah, si è cascato là, sì Mi dispiace, Lory Devi rifare tutto No, 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 è già arrivato È già arrivato, eccolo qui Andiamo, andiamo, regga Dobbiamo fuggire Dobbiamo fregare la primera Ok, passiamo qui Perfetto, così Se casco qui, regga Quinto No, non è vero Andiamo Ok, ok Facciamo attenzione Si può andare al massimo? Sì, sì Veloci, 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 regga Ok, il c'è che sta qui? Lorenzo sta là Allora Facciamo attenzione qui Olè Comunque è veramente un bel veicolo A me piace tantissimo Ok Andiamo Aiuto, aiuto, aiuto No Regga Stavo quasi per cascare E se cascavo qui lo sapete già X Lorenzo Midi che mi fregava la primera Comunque Assomiglia veramente a un ragno questo veicolo Soprattutto con le rothe F1 Poi c'è Lorenzo che ha i fari rossi Sembra tipo un ragno, regga Ok Andiamo Lorenzo secondo me sta arrivando E andrà a 2000 qua Come minimo Ok, ok Sento già rumore Di zabba qua dietro, eh Oh, oh Ci siamo, ci siamo, ci siamo State tranquilli Ok Piano 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 Perché se si bugga qui, regga È la fine Ok, ok Wow Oh mio Dio Ci siamo C'avevo paura ad andare veloce là Perché come avete visto è fino Ok Guardalo che già sta qui, regga Sta andando troppo veloce Ve l'ho detto io Eh, io ho qua 2000 manovre Aiuto, aiuto, aiuto Ok, ok Ah, qua c'è il gradino Infatti stavo a dire che parte è Oh, le Eh, ci siamo Possiamo andare Qui Bisogna fare così Sì Oh, le E adesso c'è da fare una bella scalinata Sì, sì Ok, ok Lory Che fine hai fatto? Non lo so Noi proseguiamo Cinque minuti di parkurito Andiamoci a prendere questo bel checkpoint Aiuto Ci siamo, ci siamo Al massimo qui Bella questa parte Oh, le Fino adesso siamo mega scatti, no? Credo di no, lo sapete? Meglio non parlare Ok Saliamo qui Perfetto Oh, aiuto Oh, aiuto Come sale strano Nei gradini Avete visto, regà? Stavo quasi per cascare Se vado troppo veloce È rischioso Qui? Sì, sì Andiamo, andiamo Buttiamoci in acqua Che questo qui va pure in acqua Che spettacolo Perché vai così lento? Eh, in acqua diciamo Che non va così veloce Suoniamo il klaxon Dove sta l'ori? Eccolo lì Esattamente lì Ok Dobbiamo salire sopra di solo 8 E ci andiamo a prendere questo bel checkpoint Quanto manca alla fine? E ancora c'è un po' di parkurito da fare Che rito di sì Allora Facciamo la potenzione Aiuto, aiuto, aiuto Gira, gira, gira Dov'hai? Ok Da che sta arrivando l'ori? Mi frega, prima era l'ultimo Dov'è? È in acqua Tanto va lentissimo Oh Mega rampa C'è pure dentro Eh, va bello veloce quel turbo Sì, sì Bisogna saltare Sì, sì, sì 2,360 7,20 7,20 Sui 7,20 preciso Respauna velocemente Prima che arriva l'ori Aspettate, aspettate, aspettate Veloce sui Ok, ok No, regà Ci abbiamo tutto il tempo che vogliamo Bella questa mica rampa Miniatura Ok Poi regà Se voi mettete tipo la Sultan Cioè in qualsiasi macchina di Benny Se respawnatevi Mette anche le ruote di Benny Ed è spettacolare come cosa Però A me mi mette la F1 Perché mi ha copiato Un'altra macchina F1 Devo mettere pure io Qualche macchina di Benny Quando inizia la gara Così almeno Ho le ruote di Benny Anche qui Anche io C'ho i fari rossi Sì Sono rossi No 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 Regà Si arriva No No Aspettate Silenzio 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 Perché devo parlare dei fari Fari Faretti Ok No regà Mi fregava la prima È arrivato Zitti 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 Ok Ok Ci siamo Oh mio Dio C'era pure un turbo qui Oh Lo prende da sotto No regà Io non ciò io credo Io non ciò io credo Aspettate Sono ancora primo Lo re Lo re Lo re Lo re Dai lo re Ma io posso fare queste cavolate Secondo voi Shia c'è Shia Shia Lo re Che te vermi qua E vabbè Ormai la gara È finita così Ok Facciamo attenzione Addirittura Non c'ho nemmeno lo zappare Che ha modificato Guardate Stock Stock non mi piace Perché le ruote non girano? Adesso stanno girando Sì 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 All'inizio non giravano Perché si è fermato Allori Non lo so Comunque Noi andiamo Ok Eh dobbiamo prendere il turbo perfetto Se no non salta qui Comunque aspettiamo un attimo Lorenzo Ok Ci siamo È lì c'è il traguardo Respawniamo così lo moddiamo Ok Dove sta allora Che ci spariamo pure una bella miniatura Anche se volevo una miniatura Con le ruote di Benny Però Non possiamo Ah stanno arriendo in due Ah pure il creator Daniele Pereto Aspettate Tanto non mi fregano la prima Restate tranquilli Dove siete? Dove siete? Venite qua Stanno per saltare Ah no c'è il check del teletrasporto qui Mi ero dimenticato Allora ci posizioniamo esattamente qui Ok Ci sono pure i P-PES Finali Frena 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 Daniele No Va bene Volevo spararmi la miniatura come si deve Ma non fa niente Comunque sia Se vi è piaciuta la gara di Daniele Pereto Lasciate un bel mi piace Passate nel mio primo canale Porkmoz E noi ci becchiamo al prossimo video Bella E noi ci becchiamo alla